E' stata ritrovata uccisa con un trapano Black & Decker verde conficcato nella gola. Questa è la triste storia della morte di Antonella, una prostituta di 42 anni di Genova, passata alla storia come il delitto del trapano. Antonella è stata picchiata e presa a calci, a pugni, a morsi. E' stata colpita con uno sgabello, ha i denti spezzati e riporta diverse ferite, una decina circa, inferte con il trapano. Una scena del genere si chiama overkilling e di solito è legata a delitti rabbiosi e passionali con l'omicidia che conosce la vittima.